Buonasera, io ho l'onore di concludere questa parte strumentale sul palco e abbiamo messo le zampogne e le cordomuse per ultime per due motivi uno perché sono sempre scordate, così c'è meno gente che deve sopportare questa scordatura e due perché l'estate è proprio finita, le mattine sono fredde, si avvicinano sempre di più il periodo natalizio quindi la cosa migliore è farvi sentire un brano che si chiama Natale Internazionale in questo modo presentiamo tre strumenti, non c'è con noi Walter Rizzo che è l'altro insegnante di cordomuse Walter Rizzo che insegna le cordomuse ad impianto certico e saranno rappresentate dalla musette di Matteo Matteo insegna la William Piper l'andese e se la presenta da solo e io insegno la zampogna chiave Matteo insegna la visione di Matteo 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 A presto Grazie